www.feyyaz.com Io ho giurato fedeltà a cosa nostra. E' un nevaio. Ma perché ti non aggiri giusto ora? Cosa si mettono buono, Massimo? Piccolo, piccolo, non ti puoi portare in tuo tabuto, per poco. E chi stai con leone si stanno scannando a mezzo mondo? Anche il sangue di Buscetta deve essere ucciso, eliminato. Manco caso, ho soccoro. Metà famiglia mi puoi scannare, i figli. E devo dire quello che è. E adesso diventerò una celebrità. Cercheranno di distruggerla. Mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Faccio i nomi, Buscetta. Per me non ci sono intoccabili. Perché il testo è mente su ogni cosa. Perché mi ha levato la pace dalla mia famiglia. Usa i politici? E quali politici? Non aspettavo il ruggito del leone. Ho sentito lo squittio di un topo. Questa verità non è finita appena cominciata. La mafia non è invincibile. È un fenomeno umano. Avuto l'inizio avrà una fine. Grazie a tutti. Sì! Grazie a tutti! Grazie a tutti